www.feyyaz.tv 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 Mia madre non vede mio fratello dal gennaio dell'81. www.feyyaz.tv 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 In tutto questo tempo ha mai cercato di contattarla anche solo per aiuto o per soldi? No. Finita la vostra assemblea scomprata. Domani faccio lezione come previsto. E lei non mi ha cercato? No. Posso chiedere perché? Era meglio così. Professor Marini! Sì? Non torneremo mai a Parigi, vero? Non vuoi conoscere la famiglia italiana di tuo padre? No. Che succede se la Francia dà l'estradizione? Va direttamente in prigione senza nessun processo? Vuoi che torni in prigione? Spessila! Va tutto bene, papà. Sono qui. La Francia ci ha dato asilo. Ci ha permesso di cambiare vita. Non può dare la sua parola e rimangiarsela a vent'anni dopo. Ha mai avuto pietà per le persone uccise? Ognuno di noi ha avuto i suoi morti. come in tutte le guerre. Grazie a tutti.